La scuola, felicissimi che il Presidente del Consiglio incaricato l'ha messa al centro, che ha detto che bisogna investire sulle vaccinazioni prioritarie per gli insegnanti e sui tamponi rapidi per i ragazzi. Ricorderete che era una questione che noi ponemmo anche al Governo Conte quando eravamo forza di maggioranza. Ora bisogna naturalmente essere rapidi sulla logistica dei vaccini, essere anche lì incisivi. Sull'Europa ci ha detto che ci sono buoni segnali sui contratti dei vaccini e quindi che si aspetta segnali positivi sul numero dei vaccini da poter somministrare, quindi siamo assolutamente ottimisti. Il calendario scolastico si allunga? Anche questo è un tema che è stato trattato, naturalmente il tema è che è importante riconoscere il ruolo decisivo degli insegnanti anche in questa fase, non è che se si allunga il calendario scolastico perché non c'è un riconoscimento di quello che gli insegnanti hanno fatto bene con la didattica digitale. Questa è una valutazione che si farà insieme anche alle forze sociali. Sugli insegnanti bisogna investire, bisogna evitare anche che ci sia un insegnante che si vada in cattedra e che poi non esercita una funzione così come è accaduto in questa fase visto che si è partita con la didattica digitale.